Multe per eccessi di velocità più che raddoppiate, 200 denunce penali per guida sotto effetto di alcol e droghe. È tempo di bilanci per la polizia stradale di Piacenza. Il 2017 si chiude con un aumento delle violazioni accertate passate da 5.070 del 2016 a 5.600 di quest'anno. Le multe per eccesso di velocità sono più che raddoppiate da 317 a 749. In aumento anche gli automobilisti pizzicati alla guida con il telefonino, passati da 286 dell'anno scorso a 434 del 2017. Le denunce penali per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti sono state almeno 200. 35 sono le persone denunciate a piede libero per altri reati. Gli incidenti complessivi sono stati 294, di cui 117 con soli danni, 172 conferiti e 5 mortali. Si è registrato un aumento dell'incidentalità da 266 del 2016 a 294 di quest'anno. Il bilancio è stato tracciato dal comandante Ettore Guidone. Quest'anno abbiamo concentrato la nostra attenzione nel cercare di contrastare il fenomeno della guida con il telefono cellulare. I risultati sono arrivati perché siamo passati a un più 40% dalle 290 dell'anno precedente a 430 più o meno di quest'anno e invece il discorso degli eccessi della velocità anche qui è stato più o meno raddoppiato perché siamo passati dalle 300 più o meno a 750 contravvenzioni per eccesso di velocità oggi, cioè quest'anno, il 2017. Quindi devo dire che per quanto riguarda l'attività svolta mi ritengo molto molto soddisfatto del lavoro dei miei uomini. Il comandante ha anche annunciato che lascerà il comando di Via Castello a gennaio nel 2018 e si trasferirà con lo stesso incarico a Reggio Emilia. Come è stata la sua esperienza qua per due anni a Piacenza? Molto positiva perché Piacenza comunque è casa mia, questa è la mia città e l'orgoglio che ti dà a dirigere un ufficio pubblico nella tua città sicuramente non te lo può dare qualunque altro incarico in qualunque altra città. Quindi per me è stato veramente molto molto bello essere qui a Piacenza.